giorno buongiorno arribo un giorno allora oggi oggi baccalà oggi andiamo di baccalà allora andiamo ad immergere il nostro baccalà andiamo a sbriciolarlo volevo che venisse appunto un po sfilacciato è una mousse ma un po sfruttata andiamo a grigliare il nostro pane se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e io vi do appuntamento con la iene cucina a venerdì alle 11 e 30 e ci sentiremo anche in radio il giovedì alle 11 radio nordborealis.it andate ad ascoltare perché è una radio fantastica c'è musica cinema cucina libri c'è un po di tutto www.radionordborealis.it la iena vi saluta ci vediamo alla prossima puntata ciao Grazie a tutti